Anche quest'anno, soprattutto quest'anno che è il 75esimo della liberazione di Fano, ci teniamo a presentare una serie di appuntamenti. Due di questi sono una presentazione di libri, quindi uno per esempio è proprio il primo, lunedì 26 agosto, ai giardini Biancheria Morelli. C'è per il ciclo Leda e le altre una presentazione di un libro, I giorni veri della partigiana Anna Giovanna Zangrandi, che è una partigiana veneta. E giovedì 29 agosto, sempre ai giardini della memoria, invece abbiamo la presentazione del libro Storia di Ordine Nuovo, quindi proprio sulle origini diciamo di gruppi fascisti. Poi venerdì 30 agosto, una giornata tutta dedicata a Leda Antinora. Presenteremo questa giornata, Canti per l'Evo. La liberazione della città di Fano, quest'anno il 75esimo anniversario, un appuntamento di memoria ma anche di partecipazione civile e democratica, che anche quest'anno il Comune di Fano animerà con un corteo, il corteo istituzionale, che partirà martedì 27 agosto a partire dalle ore 18 e 30, con ritrovo davanti al municipio, per poi attraversare tutti gli spazi, le vie, le piazze della nostra città che ricordano con monumenti o con lapidi i caduti per la libertà della nostra città. Grazie.